Niente, anche oggi è arrivato un pareggio, la scorsa avevamo perso, quella prima avevamo pareggiato, per carità quelle prima non ce le meritavamo né di perdere né di pareggiare Oggi magari un pareggio ci poteva stare assolutamente perché il primo tempo ha giocato l'Atalanta, il secondo tempo ha giocato l'Inter Però oggi non me la sento tanto di dare conto ai giocatori perché più o meno ragazzi la loro partita l'hanno fatta, qualcuno ha fatto schifo, fra un po' ci arriviamo Oggi proprio, non è che me la voglio prendere con lui, però non so se Spalletti beve o qualcosa del genere, comunque il titolo del video è questo Levategli il vino a Spalletti, levateglielo perché non me lo so spiegare nemmeno io per quale motivo col Torino l'aveva giocatore a figna e l'abbiamo lasciata passare Oggi era il migliore in campo, il migliore in campo, l'unico che sapeva far girare la squadra, l'ha levato per mettere Eder, quel cesso di Eder Per carità è entrato, ha giocato bene, quello che ve pare, Marafini era quello che ti poteva veramente far sbloccare la partita con qualche giocata Era il migliore in campo dell'Inter, l'ha levato, perché l'ha levato? Poi l'ha levato al 29esimo, mancava ancora tanto L'Atalanta stanchissima perché nel primo tempo ragazzi proprio ha giocato benissimo l'Atalanta, secondo tempo non stava più nelle gambe Era stanchissima, era il trentesimo, hai tre cambi a disposizione, poi lui ha quello che dice che servono i cinque cambi nella serie A E poi è quello che cambia de meno, questa cosa me la deve spiegare, cioè hai tre cambi a disposizione Uno l'hai usato, che era Raffini e vabbè lasciamogli la passata, ma ancora mancano più dei 15 minuti Ma metti Caramò, metti Caramò, con l'Atalanta che andava a 1 all'ora, ti può veramente cambiare la partita, visto che è veloce L'abbiamo visto, è un bel giocatore, non è capi gol che non sapevamo nemmeno com'era perché non l'abbiamo mai visto giocare Questo è un bel giocatore, ma mettilo, ma fallo giocare, ma provalo No, l'ha messo, l'ha messo, perché l'ha messo, quindi non è che ci ce l'ha con lui, l'ha messo al 44esimo Quindi levata gli Elvino a Spalletti, io non ce l'ho con lui, l'ho sempre detto, che se siamo lì la maggior parte del lavoro è stato il suo Assolutamente, sapete benissimo che appoggio Spalletti, ma in questi casi levata gli Elvino perché non è possibile Perché fai dei cambi scellerati, senza un senso, già dal Torino l'abbiamo lasciata passata E oggi uguale, sembra che ha paura di perde, sembra che ha paura di perde, sembra che ha paura di mettere quel giocatore che lo rischia Però ha levato Rafinha, perché? Perché? Non era stanco, non c'aveva nessun problema, l'ha levato Il giocatore come Perisic non lo leva, che raga, quello che vi pare, ma lui fa il compitino suo, più di quello non fa Fa il suo compitino, adesso veniamo ai giocatori, visto che comunque il video sono stato abbastanza veloce Veniamo ai giocatori, allora, partiamo da Andanovic Ha fatto una parata incredibile su Barro, Moussa Barro, sto Barro adesso è un fenomeno, Nutellone Barro Quanto è nero ragazzi, non sono razzista, ma quanto è nero Barro Poi, Skriniar oggi non mi è piaciuto Secondo tempo un po' sei ripreso, ma non mi è piaciuto Skriniar Miranda monumentale Miranda da 7-8 Miranda splendido In difesa perfetto Santone, D'Ambrosio Io non lo so, ma che terzi c'avemo noi? Cioè, Santone e D'Ambrosio, hanno la palla nei piedi, la ridanno all'indietro La palla nei piedi, la ridanno all'indietro Non provano mai un salta all'uovo, non provano mai niente Ma i giocatori sono Ci mettono l'impegno, sono degli uomini, va bene, va bene Ma se un giocatore dà la palla all'indietro, che giocatore è? Che giocatore è? Posso andare pure io nell'Inter Basta che ho la palla, la do all'indietro Ho la palla, la do all'indietro Poi sbagliano pure, perché D'Ambrosio ha fatto certi errori Che nemmeno in terza categoria Per il resto, Rafinha per me è il migliore in campo Borca Valero ha la flebo, raga Ce la fa più, morto, ufficiale Gagliardini, normale Non mi è piaciuto tantissimo Persic, raga, fate quello che mi pare Se ha mangiato un gol che lo facevo pure io Non mi piace più Persic, non sa più tenere la palla nei piedi Persic, zero Non mi è proprio piaciuto Icardi, nullo Il palo Oggi Icardi ha rifatto il palo Tranne qualche sponda buona Però sappiamo che questo è Icardi Quindi non ha senso criticarlo È l'attaccante del rigore Che se c'ha la palla te la mette Anche se ultimamente non l'ha mai messa Però te la mette e te fa vincere la partita Purtroppo, raga, lui è così Lo sappiamo tutti quanti Quindi niente Levategli il video a spalletti Oggi se abbiamo pareggiato questa partita Che tranquillamente potevamo vincere Perché nel primo tempo potevano vincerla loro tranquillamente Visto che ci hanno surclassato Nel secondo tempo andavano a due all'ora Voglio dire La potevamo vincere tranquillamente L'avete visto tutti quanti Che potevamo vincere tranquillamente E invece non abbiamo portato un altro pareggio a casa Siamo terzi Speriamo domani in un pareggio Di Lazio e Roma Almeno rimangono sempre lì Oppure che vince la Roma Vince la Lazio Va bene uguale Diciamo che stasera è importante non perdere Però era importante anche vincere E noi abbiamo vinto Vabbè Qui da lo smatte è tutto Lasciate un mi piace o un commento Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Sempre forza Inter Sempre comunque Comunque Quante volte ho detto comunque Vabbè Levate il vino a spalletti Officiale Spalletti beve Beve Prima delle partite beve Perché non si spiega Prima non beveva Poi ha visto che l'Inter perdeva Ha detto Mi do al vino Almeno proprio Sto senza pensieri Se vede Però la stai abusando un po' troppo Un po' meno Forza Un po' di cervello Sempre forza Inter